Ciao ragazzi, io sono Ema e oggi siamo su Crasher Plant Cercheremo di attaccare questi qua E' pieno per la guerra Nel, non posso deciso di fare Sì, non è Guarda, non si vede molto che c'è un bambino E' un bambino, non è un bambino E' un bambino E' un bambino, non è un bambino E' un bambino, è un bambino, è un bambino E' 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 un bambino, è un bambino Siamo subito l'abilità del progetto barba. Ecco si finisce la battaglia. Siamo subito l'abilità del progetto.